notizie in un clic punto com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale notizie in un clic punto com pubblica fatti non opinioni notizie in un clic punto com la notizia giusta per te ciao a tutti io sono loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di youtube notizie in un clic visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizie non clic punto com la sezione di educazione finanziaria ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento i temi trattati li potete trovare nel libro lessico finanziario scritto dal professor beppe ghisolfi edito da aragno una visione questionario di beppe ghisolfi siamo il paese della burro burocrazia l'esigenza di compilare moduli e questionari ci complica spesso la vita anche in banca ci sono questionari di vario tipo se chiediamo un prestito dovremo compilare firmare alcuni moduli indispensabili persino in albergo o in aereo se andiamo in azioni straniere ci daranno fogli da compilare e sottoscrivere bisogna prenderla con filosofia ma stare sempre attenti a quello che si firma spesso i testi che ci propongono sono di difficile interpretazione perché molti termini non sono di nostra padronanza il consiglio è quello di non avere timore nel chiedere spiegazioni molto meglio fare qualche domanda in più piuttosto che pentirsi quando ormai non siamo più in tempo e con oggi noi abbiamo finito parleremo domani sempre per educazione finanziaria di rapporto debito pubblico pilla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti